ma che è il genitore quello lì? ma io riconosco quella macchina no non può essere è il genitore che è il genitore uccidetelo ciao copiandrai? muori cosa fa scappare? la polizia si verrà a cercare unita 67 in azione in arrivo sullo scena del crimine passo ehi Bob questa roba buona a quanto ve la offri? 67 euro fratello polizia di new york mani in alto cazzo la pula mani in alto col cazzo se ne arresto per aver ucciso per aver ucciso dei membri della gang vietnamita se ne arresto per sparatoria se ne arresto per sparatoria se ne arresto per sparatoria mani in alto ma dovemmo spararti fa culo mi hai cosi retto scattetemi criminale eliminato noi ce ne andiamo non la non 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 sono più veloce e tu non sai cosa io sono Dominic Toretto e oggi mi hanno detto che uno mi vuole sfidare e ho accettato quel tizio si chiamava Marco e dovevo incontrarlo in questa strada ci dovemmo fare tutta l'autostrada alla fine della strada che è vero che il primo vince vai ancora si sono Dominic 3,2,1 via è vero che sia molto bravo sono più veloce di quanto pensi mi ha detto la mia macchina sta fumando mancano pochissimi vetri si ho vento io il mio potore è fuso ho vento hai lasciato una grossa macchia d'olio meglio se vieni in fretta ti si fermerà il motore e saranno cazzi amari no? in fretta di così non posso comunque ho vinto io sennò io il guidatore più bravo porca miseria ma che caso hai fatto al motore? non lo so ah ecco chi è stato vieni qua penso di merda mi ha detto che questo garage può essere l'auto l'ho spaccato davanti alla gara quindi è meglio ehi dopo da quanto tempo? eh ciao jesse mi potresti passare la macchina? l'ho un po' rotta da notte una gara il motore è a posto si tutto il resto ecco vediamo allora vabbè io intanto torno a casa mia vediamo cosa posso fare ah mi raccomando domani a mezzogiorno comunque ti chiamerò tipo oh no ma ci sono le gare allora ci sono le racehorse jesse jesse allora ci sono le racehorse si piace farlo muoviti ok allora andiamo a mandare comunque sto dietro di te ok Cazzo Hai vinto eh Bravo Meno male che non c'ho la mia dodge charge Se no ti avrei fatto un bel culo Va beh Disogniamo all'inizio Ma c'è poche Oh se provo a fare la capovolta da qua Allora troppo rischioso Vita Ok ho preso la vita Adesso posso fare tutti gli istanti che voglio Buon per te Ok Bella ragazzi E ci siamo E questo è stato il nostro Machinima Stavolta è stato Seyo Ringrazio Drown per l'aiuto Ciao ragazzi Eh ringrazio anche te per avermi ospitato Sì Ehm Arriverà la parte 2 Non vi preoccupate Solo che ci vorrà un bel po' di tempo eh Eh Abbiamo messo un'oretta Un'oretta per fare 6 minuti Capiteci Sì appunto Adesso siamo pure a 9 minuti Perché stavo parlando pure no Niente Il video può finire qua Arriverà la seconda parte del Machinima E noi ci vediamo al prossimo video Ha 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 ha